Oltre 1000 euro è la somma raccolta e consegnata simbolicamente questa mattina all'Unicef grazie all'iniziativa Adotta una piantina, promossa dal secondo circolo di Vittorio di Umbertide. L'idea è nata dalla donazione alla scuola di diverse piantine da parte del professor Vittorio Raggi, docente in pensione dell'Università di Agraria di Perugia, in seguita alla quale gli alunni delle classi quinte e le insegnanti hanno pensato di utilizzarle per raccogliere fondi da donare all'Unicef, aiutare così i profughi ucraini arrivati nel nostro territorio. Sensibili quindi all'emergenza umanitaria scaturita dal terribile scenario di guerra, i bambini hanno ideato l'iniziativa Adotta una piantina. Grazie alla collaborazione con i disabili della serra comunale di Umbertide e Orti Felici, le piantine sono state rinvasate e decorate per essere poi vendute al mercato della terra in piazza Matteotti e durante l'orario d'ingresso e uscita della scuola. Le donazioni raccolte sono state quindi consegnate oggi al presidente del comitato provinciale Unicef, Fausto Sant'Eusanio, che ha manifestato la gratitudine per l'impegno profuso consegnando un attestato di ringraziamento alla scuola di Vittorio e ai ragazzi disabili della serra comunale. Nel corso della cerimonia ufficiale, oltre alla dirigente della di Vittorio, Raffaella Reali, erano presenti anche il professor Vittorio Raggi, l'assessore all'istruzione del comune di Umbertide, Alessandro Villarini, la responsabile Unicef di Umbertide, responsabile di zona della cooperativa sociale ASAD, Monica Nanni, la ex dirigente del secondo circole e ambasciatrice di zona per l'Unicef, Angela Monaldi e l'insegnante coordinatrice dell'iniziativa, Chiara Ruggeri, insieme a tutti i docenti e agli alunni delle classi coinvolti. Adotta una piantina è solo una delle tante iniziative che la di Vittorio porta avanti da anni, allo scopo di promuovere competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, per cui la scuola ha già ottenuto la prestigiosa certificazione Unicef di scuola amica dei bambini e dei ragazzi, un percorso quindi specifico che valorizza l'educazione interculturale ma soprattutto la pace nel rispetto delle differenze. Grazie a tutti! Grazie a tutti!